Oggi vi presentiamo esperienze innovative sul valore pubblico, un volume che descrive il quadro completo e dettagliato delle pratiche innovative e delle sperimentazioni condotte per migliorare la gestione della performance e il valore pubblico. Con questa pubblicazione si conclude il progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui Fornes è inteso negli ultimi tre anni, promuovere il valore pubblico e processi partecipativi, stimolare l'adozione di approcci innovativi e sperimentali che possano migliorare l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche ed infine fornire alle amministrazioni centrali e regionali strumenti concreti e metodologie per migliorare la propria performance organizzativa e quindi la qualità dei servizi resi e cittadini e alle imprese. Vi ricordo che potete scaricare il volume su www.formance.it Il valore pubblico è ormai al centro degli sforzi di programmazione e controllo anche delle amministrazioni pubbliche italiane. È una dimensione importante di performance, ma sappiamo che è anche una dimensione ambigua, ossia possiamo dire di aver generato valore pubblico solo se i beneficiari lo percepiscono così, lo sentono, condividono la generazione di valore pubblico, pertanto non si può prescindere dalla partecipazione. La partecipazione che nella normativa precedente si concentrava sulla valutazione con il PIAO abbraccia un po' tutto il ciclo di performance, quindi anche l'analisi di contesto e l'identificazione degli obiettivi di valore pubblico. E condivisa l'importanza del concetto di valore pubblico e partecipazione, un po' più carenti sono le competenze in tema di strumenti operativi per poter coinvolgere gli stakeholders. Su questo il laboratorio del Dipartimento della Funzione Pubblica e Formance è una fonte di conoscenze ed esperienze preziosissime per le amministrazioni che vogliono migliorare la partecipazione. Quindi vi invitiamo a leggere il rapporto finale e buona lettura. Nell'ambito del rapporto Formance dal titolo esperienze innovative sul valore pubblico abbiamo accompagnato 15 regioni e due province autonome nella predisposizione del PIAO di qualità. Qualità del PIAO significa avere uno strumento con pochi obiettivi, indicatori adeguati, integrazione tra le diverse anime del PIAO e tutti i contenuti funzionali alla creazione di valore pubblico. Qualità del PIAO significa anche però integration team, quindi un gruppo di lavoro che costruisce, che programma insieme e significa anche qualità del processo, ovvero partire dagli obiettivi di valore pubblico, pianificare gli stessi insieme agli stakeholder, quindi poi andare a programmare obiettivi di performance funzionali primi, risultati di corruzione che proteggono le performance del valore pubblico e infine programmare azioni di reclutamento e di formazione di profili funzionali a raggiungere gli obiettivi di valore pubblico. Di questo ed altro parleremo nel rapporto Formance realizzato per il Dipartimento della Funzione Pubblica. A tutti buona lettura. Per la Valle d'Aosta l'esperienza dell'Innovation Lab è stata molto edificante, molto utile perché ci ha dato l'opportunità innanzitutto di riflettere sul concetto di valore pubblico e successivamente di confrontarci anche internamente su tutti i processi che producono degli indicatori che concorrono alla realizzazione del valore pubblico. Nel nostro caso noi abbiamo lavorato molto sul tema dei NIT che ci è caro, quindi i ragazzi che non studiano e che non lavorano, sui quali stiamo mettendo a terra una serie di politiche molto importanti per evitare la dispersione scolastica e affrontare anche l'inverno demografico. Quindi in ultima analisi esperienza positivissima. L'esperienza del progetto organizzato da Formez e Dipartimento della Funzione Pubblica denominato Innovation Lab ha consentito alla Regione Puglia anche per l'annualità 2024, nell'ottica di una programmazione integrata, di acquisire una metodologia incentrata sull'apertura di canali di ascolto degli stakeholders al fine di avvalersi di eventuali suggerimenti o proposte provenienti appunto dalla società civile. Ciò è stato fatto con riferimento a tutti gli obiettivi di valore pubblico individuati nella programmazione 23-25, tutti confermati nell'annualità 24, tra i quali continua a figurare l'obiettivo di valore pubblico meno NIT proposto nell'ambito del progetto e fatto proprio dalla Regione Puglia nel novero, inserito nel novero degli obiettivi di valore pubblico per il triennio di riferimento. Tutte le evidenze e i contenuti della partecipazione della Regione Puglia al progetto Innovation Lab sono contenuti nel volume, esperienze innovative sul valore pubblico. Buona lettura!